La mia perplessità nasce non per la elezione e per la non elezione dei senatori, perché si può scegliere l'elezione diretta, ovvero l'elezione indiretta. Nel testo che è stato presentato non c'è più neanche l'elezione indiretta, cioè c'è una scelta a parte di qualcuno dei senatori, ma nessuno vota più. E questa è una cosa che in democrazia è inaccettabile.